Ciao a tutti sono Isaac e siamo qui su Half-Life 2 episodio 1 e credo che questa sia una delle ultime parti perché dicono che questo gioco sia questa sì questo episodio sia molto corto e se non sbaglio siamo nel penultimo terzo ultimo capitolo quindi non manca molto ora dobbiamo soltanto andare nella stazione dei treni e a quanto pare il caricamento è parecchio lungo quindi la mappa sarà parecchio estesa altri zombie no 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 ok porca miseria iniziamo bene cosa mi amministri morfino what no no porca miseria c'ho da ricaricare no non mi son capito proprio vabbè epic fail però qui c'è la vita via questo via via questo dicevo siamo siamo cioè ci manca soltanto la stazione in pratica dobbiamo trovare la stazione e poi siamo a posto dovremmo aver finito questo episodio ditemi se volete anche l'episodio no 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 ditemi se volete anche l'episodio 2 anche se quello è parecchio più lungo no 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 ma che perché mi blocchi via 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 mi chiedo se questo cosa ci abbia no ok ehi dove vai muori alleluia o la balestra alleluia finalmente la balestra qui ci abbiamo lancia le granate in pratica per il lancia granate dell'arma dammi quell'armatura e qui ci sono i mitragliette ma non mi servono ok via la no dove dobbiamo andare devi fare qualcosa a te qua spara granate smg mica sono scemo cosa devo fare boh via ah dobbiamo staccare il coso lì ci siamo infatti qui gli enigmi giocano molto sulla oddio che cacchio giocano molto su il no giocano molto su il motore sul gravere si sulla su giocano molto su questi aspetti in pratica ad esempio a volte mi trovo cioè dovevo dovevamo fare fare sì sì l'ho già detto nell'episodio precedente perché sì ogni tanto ci dovevamo trovare a fare che ne so a bilanciare i ponti con i pezzi di mattoni giocano molto su la fisica e queste cose qua comunque qui cosa sta succedendo oddio è partito un uomo ehi via da lì bene grazie lol ci abbiamo i cittadini col bazooka dammi a me il bazooka sono usati di sicuro meglio di te ok cosa c'è wow ok forse forse è meglio no però no un'altra di quelle porte no uno scudo come faccio a disattivarlo bello che loro ci possono passare ma io no ecco perfetto corvi ah cos'è si disattiva no io dovrei andare da qualche parte insomma aspetta ma lì c'è gente non è che devo andare di qua sì eh cosa ci fai di qua sì eh ok quindi c'è un rifugio vicino alla stazione dei treni suppongo che prima o poi ci faranno questo posto se non sbaglio c'era su alfa live 2 alfa live 2 sì vabbè suppongo però che prima o poi ci faranno prendere cioè ci faranno dovremmo dargli una mano a raggruppare questi questi sopravvissuti qua qual'è la password ma sei scemo ciao Isaac non ha fatto niente lambda cosa c'è qui dentro vabbè un po' di armatura di vita sbaglio o questo è uno dei condomini dove stavamo dove dovevamo in pratica ci sono ormai ci ho fatto l'abitudine di qua no altri zombie ma sti qua vivono a 3 metri dagli zombie proprio io non lo farei cioè mi troverei un posto bello lontano no un'altra granata via ole come di me ne fai ad essere ancora viva io sarei morto boh anche con la tuta la tuta più inutile di tutte le tute merda 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 ole taci ok ora a quanto pare dobbiamo spostare gli armadi vai via no tieni un armadio eh me lo ributti giù scusa tieni non volevo romperlo ora dobbiamo tornare su no aspetta copro questo questo coso che non mi piace ok ciao di qua mamma mia è tutto buio 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 anche qui secondo me non hanno pagato la bolletta no no guarda rimarrà rimarrà ferma a darci gelati non esploderò cioè non esploderà quella granata rimarrà ferma a darci gelati ciao oh ciao non ti ho ne ancora dato la birra però ti odio come si accende sto coso voglio andare via oddio calma diamine qui moil hm tom non è quello che ti devo ma almeno qualcosa di simile tom cioè te lo posso tu lo rompi ma sono shaming dammela dammela mia 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 grazie eccolo qua yeah non sarebbe half live senza sta roba scegliamo scegliamo la ci vediamo la stazione gunship wow dobbiamo in teoria da quanto ho capito dobbiamo 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 no 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 questi no questi no questi no dobbiamo e morite dobbiamo diamone un caricatore per ammazzarne tre dobbiamo difendere gli ostaggi gli ostaggi continuo a chiamare gli ostaggi dobbiamo come si chiamano quei tizi sopravvissuti si sopravvissuti dai i cittadini dobbiamo difendere i cittadini mentre vanno nella stazione il problema è che qui abbiamo un bel po' di gente muori ah che bello avere di nuovo tutte le armi però io non capisco da dove sparano ah da lì muori dove sono gli altri qui no ok dobbiamo spaccare sta roba ok ci abbiamo se cado ci abbiamo da fare oh mio dio ho preso un colpo se se cadiamo ci abbiamo da fare un bel po' di strada a quanto pare quel bastardo col fucile a pompa è venuto addosso proprio ah beh caricamento credo che dobbiamo prima raggiungere la stazione poi aspettare che arrivino i cittadini non sarà facile poi ho notato che c'è un achievement che quello che mi servirebbe ciao ah perfetto c'hanno gli ospedali con gli zombie compi combine morite preferisco gli zombie ai poliziotti perché gli zombie devono per forza venirti vicino per attaccarti quei tizi invece devono per forza cioè possono anche chi è che mi sta colpendo qua diamine ah la gunship porca miseria eccola qua quei tizi invece da lontano mi ammazzano tranquillamente ah però ci sono munizioni per il fucile a pompa in questo gioco ti danno così tante armi in una sola volta che è veramente c'è l'imbrazzo della scelta ad esempio il fucile a pompa non è da tanto che non l'ho no è sparito tutti lo sanno che spariscono prima o poi le munizioni ora dammi qualcosa di esplosivo aspetta che ammazzo questo dammi che ne so delle granate perfetto ma ok ecco un'altra ma wow cos'è bionic woman bo via ora qui ci abbiamo le mine no 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 vediamo dammi questa eh dai ha qualcosa di più oh questa ma ok è partito andiamo non c'è vita ah qui forse munizioni e vita perfetto mi sento meglio ora ehi quel coso mi serve adesso dammi dammi subito quel lanciarazzi dobbiamo distruggere la gunship che ci sta spaccando dove è andato no devo andare giù vediamo giù di qua prendiamo questo ole ora distruggiamo quella dannata gunship eccola lì no continuo a cadere come facciamo si ovvio lei non fa niente devo fare tutto io no dai 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 dove sei no aspetta mi sa che prima dobbiamo dobbiamo uscire perché da qui è difficile come si fa a spaccare sta roba spaccati spaccati niente da fare no 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 munizioni fita perfetto e niente da fare mi tocca eccola lì e uno e due ne manca una dai 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 munizioni munizioni e tre dovrebbe esplodere adesso no e dai muori no 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 munizioni munizioni oh la no 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 oh merda lol altro che le mie ovvio che è morto si è morto come fa a morire una cosa di ferro dai comunque prendiamo un po' di munizioni qua comunque rispetto al 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 fly v2 dove esplodevano e diventavano pezzi e basta questo questo è stato epico diamine ok ora dobbiamo andare di qua no ci penso io ole morite ok la mia tattica si è rivelata un epic fail però dove vai ehi dove vai bravo mine mine dove vado va bene meglio meglio della pistola oh qua ok dammi questa mina sai hackerare anche questa no ole io si wow mi do una mano ehi aspetta li ammazzo tutti ole ok dammi quella mina mina da me mori e come è fatto a non morire scusa mori una volta per tutte quanta cavola di vita c'hanno e parte un'altra musica lol e uno e una due e una tre buono cioè invece che salvare la gente si mettono a fare esperimenti ole altri zombie ma io mi chiedo perché sta gente deve per forza essere contro di noi cioè sta per esplodere tutto e loro vanno contro di noi però capisco gli zombie che ormai non hanno più testa però ok no 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 via 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 Da questa parte Ah ah non riuscirete mai ad entrare No 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 E uno E no Ho finito le granate porca miseria Ok Muori Ok Ok da questa parte Dopo ancora Eccolo là lo sapevo Cosa sta succedendo qui Ecco qualcosa si mangia Sì Vai via ciao Io Verrò da te tra un attimo Muori Com'è fatto ad esserci acqua qui Boh Ah un altro di quei cosi di corrente se non sbaglio di qua Ah che schifo Via 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 Ok No ma 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 è tutto contro di me in sto gioco Altro che Che cat mario Proprio Tutto tutto No Devo trovare una soluzione qui Eh cos'è sta roba Ahia Eh Cosa No 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 Giuro che prima non li avevo visti quei tizi Comunque lì si è accesa la porta Devo tornare indietro ma non mi conviene perché c'è acqua Eee Olè Grazie 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 Mi dai una mano Ora Muori 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 Impossibile Come posso Sistemare qui il problema Intanto devo eliminare quei due tizi Ok Anche lì ce ne sono altri due Ho una E una due Boh E ora come faccio a saltare sto punto Tutta l'acqua qui Eee Oddio Cosa è successo qui Eee 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 Cosa c'è Mmm No Qui non c'è niente Eee Vediamo se c'è qualche strada secondaria Perché questa è mezza rotta No di qua non si può perché muoio all'istante Ho visto nell'acqua quindi Ok Proviamo così Non sarà facile Ok Non muoio all'istante Questo è un buon segno Ma tu Ma tu devi rompere Ogni giorno Ok Eeeh Questo coso galleggia Se non spari Vieni Via Via No Non mangiarlo Vai via Vai No No Ma scusa Vai via Ok Ah Ora ho capito Da qui in poi Cosa devo fare Aia 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 Sì Magari Ma quanti sono Eee Daia Quanti diamini sono quei tizi O appaiono uno dopo l'altro Ma comunque adesso capite come funziona Basta fare così Allora Prendi sto cosa Prendilo Ah devo prenderlo per forza con sto cosa Bene No Senti Dammi il fucile a pompa qua E uno E una due Ok E ora dobbiamo portarlo di là Qui sotto Così Ecco qua Così tiene su quella roba là Sì No Ok E ora dobbiamo Tirare su No Ok Allora Devo andare di là Giusto Tu intanto muori Ah eccoli che appaiono Bastardi No Vai in acqua e muori Lol Ah di qua Ok Fatta Perché un tizio non sa aprire la porta senza mani Ah Ah e qui siamo nel piano di sopra Ok Speriamo di non cadere ancora No Ok Dove Dove diamine Ah Ah Devo scendere Wow Quanti Quanti c***o sono sti ragnetti Porca Eccolo la Mi ha colpito Ok 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 Mori Ok Morto anche quella No No Ancora mi hanno colpito Quei cosi Non ho mai capito Perché la vita Comincia a Ricaricarsi Quando Vengo colpito Da quei cosi Ma comunque Va bene Dovemo uscire Da sto posto Mori E ora C'è E uno E due E finiti Possiamo uscire ora Mi sa di sì Ok E infine Dobbiamo uscire Da che parte Da questa Sì Da qui Telefoni No Ci servono Monete No Che razza Eh me lo sono chiesto Anch'io E' bello Che era una via sicura No Torrette Vediamo se riesco a fare qualcosa Così Sì Magari Vediamo Dammi quelle E via No Cosa ci fai Te qui Come facevo A distruggere Le torrette No No Ma quanti zombie Arrivano Adesso Granata Via 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 Oddio Dammi Quella schifo Di qua Armature Armature No 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 Peggior incubo Di tutti No Ancora peggio Aiuto Perché me li becco io Tutti Ok Corriamo di qua No no Un altro E ora Devo spaccare qualcosa Perfetto Dove sono finite Le torrette Sono scese All'inferno Ah no Ah non le hanno chiuse Ok Non so neanche il perché Comunque qui Sembra che siamo di nuovo Nella cittadella Cioè nella cittadella Sì nella cittadella Si chiama Perché ci sono queste costruzioni qua Di Ferro O Qualsiasi materiale Esso sia Vediamo un po' Anche punto siamo Se cambia Qualcosa Perché Gli ultimi capitoli Sono sempre Cioè La stazione L'abbiamo trovata? Eh What? È vivo? Ora Spero che sia morto Quindi qui c'è la stazione Ok Quindi qui c'è la stazione Credo che ormai abbiamo finito L'episodio Ormai quasi Un'altra parte Se volete Dunque se volete andare a vedere Come va a finire Se volete andare a vedere Come va a finire Questa avventura Su Alpha Live 2 Episodio 1 Continuate a seguirmi Noi ci vediamo Alla prossima Ciao E alla prossima Alla prossima